Finiti i lavori di rifacimento del muro di cinta esterno del carcere di Castrogno a Teramo, sostituiti anche i vetri blindati più ammalorati, è ripristinato tutto il camminamento esterno. Ma la vera novità per il penitenziario del capoluogo è che questa garitta di sorveglianza, a distanza di dieci lunghissimi anni, è tornata finalmente operativa. Un agente sentinella per turno, con turni di due ore sull'H24, vigila sul carcere contro ogni tentativo di evasione o introduzione illecita di qualsiasi tipo di materiale destinato ai detenuti. Basti ricordare la droga arrivata anche tramite droni e soprattutto quei fili d'angelo che appositamente arrivate a destinazione senza alcuna vigilanza esterna e preventiva dall'alto hanno consentito a un detenuto di mettere a segno la prima evasione della storia di Castrogno. Da quella evasione sono trascorsi 14 mesi e del detenuto evaso ancora oggi non c'è traccia. Per adesso su cinque garitte solo una è tornata operativa a Castrogno. E non a caso si è scelto di ripristinare la turnazione H24 di sorveglianza esterna in questa garitta che è da sempre la più strategica per il personale di polizia penitenziaria. In primis perché è la garitta più vicina al padiglione detentivo e poi perché si affaccia sia sulla strada provinciale con possibilità di controllo sulla via parallela per intenderci quella che scorre lateralmente al carcere e scende giù verso Sciusciano. La strada da cui con l'aiuto di complici ben piazzati in macchina il detenuto riuscì a far perdere le sue tracce dopo aver segato le sbarre della sua cella con i fili d'angelo recapitate di con un drone. Forse se ci fossero stati già gli agenti sentinella un anno fa quella evasione sarebbe rimasta solo un tentativo a vuoto.